Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non solo il barista eroe, ma anche un nigeriano sarebbe intervenuto per salvare la vita al 22enne accoltellato venerdì sera a Recanati, a poche ore dall'omicidio di Civitanova. Proprio questa concomitanza ha messo un po' in secondo piano il grave fatto di cronaca che ha fatto finire in coma un giovane di origini nordafricane. La vittima, appena si è risvegliata in un letto dell'ospedale Torrette, ha chiesto una penna e ha scritto questo messaggio. Sono vivo grazie al nigeriano. Un nigeriano di passaggio che avrebbe placato l'aggressore impedendogli di continuare a colpirlo con la lama. Poi è intervenuto anche il barista che ha strappato il coltello dalle mani dell'uomo ormai immobilizzato. Da una prima ricostruzione dei carabinieri un gruppo di ragazzi era in un locale del centro festeggiando la fine di un corso. Ad un certo punto è arrivato un signore esagitato perché disturbato dai rumori. Avrebbe intimato al gruppetto di andarsene dirigendosi verso il 22enne l'unico di colore e le avrebbe tolto gli occhiali. Il ragazzo avrebbe quindi reagito con uno schiaffo. A quel punto l'uomo è uscito dal bar, tornando poco dopo con un coltello a serramanico. La situazione è degenerata quando l'aggressore Omar Pintucci ha colpito il ragazzo prima alla spalla, poi al petto. Proprio in mattinata, nel carcere di Montacuto, si è tenuta l'udienza di convalida per il 47enne di Recanati accusato di tentato omicidio. Pintucci, difeso dall'avvocato Donato Attanasio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il GIP del Tribunale di Macerata Claudio Bonifazzi ha convalidato sia l'arresto che la misura cautelare. Grazie. Grazie. Grazie.